Direi che nel secondo tempo può essere proprio schietti, avevo la sensazione che la partita si potesse vincere, non che ci fosse una differenza così marcata in campo, però sono quelle sensazioni, mi sembrava che la squadra avesse preso campo, avesse trovato il modo di creare qualcosa di importante, quindi avevo la sensazione positiva, ma questo nel calcio lo sappiamo che spesso non basta, basta un gol sbagliato e si prende, o riguardo non abbiamo personale per dire si perde, però nel nostro caso diventa grave, una cosa grave perché arriviamo già delle sconfitte, tant'è che in settimana avevo detto che assolutamente non si doveva prendere i golvi, si doveva fare punti, muovere la classifica, in effetti poi in campo la squadra è andata con un atteggiamento consono, una trasferta dove si vuole provare a vincere, perché c'erano due attaccanti in capo, c'erano tre quartiste, c'erano mezzali offensive, c'era un terzino di spinta che madonna, quindi la squadra ha assolutamente giocato, ha provato a giocarsi tutte le sue carte, non ci sono dubbi, anche i cambi comunque sono stati sempre attaccanti su attaccante, quindi questo era quello che avevo detto per voler dire facciamo una partita di lotta, di battaglia, lottiamo sugli pallone, però poi la squadra è venuta anche come assetto anche come giocatori per provare a vincere la partita, naturalmente sapendo di giocare contro una squadra comunque che ha fatto sempre delle buone partite in questo inizio di campionato è comunque su un campo sempre molto scorbito.